fedez si trova in california per il quakella musica ncd arts festival e viene paparazzato insieme a giulia ottorini scopriamo insieme cosa sta accadendo i personaggi famosi molto spesso si trovano al centro di scupe rumors sia per quello che riguarda la loro vita privata che lavorativa essendo personaggi noti spesso vengono paparazzati nello loro uscite e sfuggire agli obiettivi delle fotocamere può essere davvero difficile ne sanno qualcosa fedez e giulia ottorini che sono stati paparazzati insieme in california scopriamo insieme cosa si nasconde dietro a questi scatti la storia tra fedez e chiara ferragni finita già da diverso tempo continua a creare scalpore dopo le interviste rilasciate sia da chiara ferragni che la recente intervista a belve di fedez i fan si chiedono se i due siano pronti a voltare pagina nel corso di questi mesi molte le voci relative ad ipotetiche storie o flirt al momento il rapper si trova negli stati uniti in california dove si è recato dopo l'intervista rilasciata a francesca fagnani oggi spuntano delle foto molto particolari che riguardano fedez e giulia ottorini ecco cosa sta accadendo tra i due giulia ottorini è una giovane tiktoker di bologna che è diventata nota dopo la sua relazione con il rapper man bolosco la giovane è stata paparazza insieme a fedez in america più precisamente in california e molti fan si sono chiesti il rapper stia provando a dimenticare così l'ex moglie chiara ferragni ma la risposta sembra essere no infatti i due giovani si trovano in california per il quakella musica ncd arts festival insieme ad alcuni amici fedez e giulia infatti hanno diversi amici in comune e proprio per questo motivo si trovano insieme al festival le foto sono state scattate fuori da un centro commerciale dove che la coppia ha visitato tra un evento e l'altro del festival camminano vicini sorridenti e tranquilli come due vecchi amici quindi almeno al momento sembra improbabile un possibile flirt tra i due